Partiamo da questo momento positivo, si è parlato di grande entusiasmo, però Malesa ne ha avvisato. Bisogna imparare quanto è bella la vittoria per vincere ancora. Certo, noi non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è la salvezza e oggi sono tre punti fondamentali, quindi ogni partita dobbiamo avvicinarci sempre di più al nostro agguardo, poi una volta raggiunto tireremo le somme e guarderemo cosa è possibile fare. Veniamo a te, terzino per esigenza ma con un gran futuro, detta del tuo allenatore, tu come la vedi? Io la vedo che intanto mi va benissimo giocare nel senso terzino perché lo vedo un ruolo come l'altro, mi piace, mi piace correre sulla fascia, mi piace come ruolo, poi in futuro non si sa mai, io sono altro centrocampista, mi piace giocare lì quindi uno dei due vale l'altro. È andata bene la cena per festeggiare la vittoria sulla Juve? No, benissimo, comunque teniamo sempre i piedi per terra perché c'è il Cagliari partita per la salvezza e quindi dobbiamo assolutamente fare punti.